Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi e consigliere comunale di Taranto, in piazza della Vittoria per dire no alle liste inquinate dai candidati imputati, con esplicito riferimento alla lista del PD Ionico dove figurano nomi iscritti nel maxiprocesso per disastro ambientale nei confronti dell'ILVA. È veramente triste vedere la scelta che il presidente candidato, Michele Emiliano, ha fatto di candidare rinviati a giudizio nel processo ambiente svenduto. Non lo doveva fare, perché l'ha fatto? Colui che si erge, diciamo, a un cambiamento. E quindi le mani pulite stanno a indicare queste, mani bianche, non solo per una politica che non debba più continuare a inquinare, ma per una politica che non candidi più i responsabili politici e morali del disastro ambientale e sanitario non solo di questa città, ma di tutta la regione. Intorno a Bonelli un gruppo di attivisti e sostenitori del candidato dei Verdi alla regione, il manduriano Gregorio Marigio.